Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle news e agli snapshot di Minecraft. Ma sapete che ogni settimana cambio l'intro? Cioè ogni settimana mi chiedo ma che parole usavo esattamente l'altra volta? Boh, la facciamo diversa. Quindi sì, probabilmente ogni settimana un'intro diversa ma non cambia il succo del discorso perché in questi video vediamo tutte le novità uscite nel mondo di Minecraft, snapshot e non solo snapshot. E in questo caso, questa settimana c'è molto di cui parlare. Cose di vario genere ma molto di cui parlare. Quindi senza perderci in chiacchiere direi sin da subito di lasciare un bel like per supportare questo video e iscrivetevi se non l'avete fatto attivando la campanella in modo da non perdervi nessun aggiornamento nel futuro di Minecraft. E se volete commentate per farmi sapere cosa ne pensate. Inoltre vi ricordo anche stasera alle 20.30 Nuova puntata in live con TR, link in descrizione, della serie Better Minecraft dove affronteremo dei nuovi boss davvero assurdi. In questa serie di video parliamo di snapshot e lo faremo anche oggi anche se le novità degli snapshot sono minuscole, anzi probabilmente possiamo dire che non ci sono. Ma tranquilli perché dobbiamo parlare di altre cose e ne approfitterò di questo video appunto per dirvi un po' tutto quanto. Quindi partiamo con il fatto che attualmente mi trovo nella versione 1.21.4 pre-release numero 3. E specifico subito che non so se durante la registrazione, editing di questo video uscirà un'altra pre-versione o una release candidate o se quando uscirà il video uscirà qualcosa al momento lo sto già registrando in questa versione. Nel caso uscisse qualcosa al volo vi aggiungo una clip dopo giusto per aggiornarvi. Nella pre-release numero 2, che non l'abbiamo visto insieme perché settimana scorsa c'era la 1, hanno fixato dei bug e aggiornato i datapack alla versione 61. Nella versione numero 3, quindi la pre-release numero 3, hanno semplicemente fixato 3 bug. In particolar modo, forse lo avrete notato nell'ultimo video o nelle live della survival, quando cadevo da un blocco, o anche facendolo saltando per aumentare la grandezza della caduta, prendevo danno. Questa cosa, come vedete ora, non succede. Era un bug. Se avevate il dubbio era un bug e anche quello è stato risolto. Detto questo, non c'è assolutamente nient'altro da dire. Siamo verso la fine dello sviluppo di questo winter drop che, a tal proposito, sembra avere una data ufficiale. Perché sì, è comparso un avviso che ci svela quella che sembra essere la data d'uscita del winter drop, quindi del pale garden, del creaking, eccetera, eccetera. Ovvero il prossimo martedì, martedì 3 dicembre. E la cosa divertente è che il winter drop non uscirà neanche d'inverno, uscirà d'autunno, dato che l'inverno inizia tecnicamente il 21 dicembre, e quindi, beh, non si chiamerà winter drop, ma di fatto non è neanche un winter drop. Un'uscita molto anticipata rispetto alle previsioni che lo davano in uscita nelle vacanze invernali. Quindi un'ottima notizia. Ora, mancano pochi giorni e siamo alle pre-release con gli ultimi bug fix, quindi aspettiamoci o oggi o nei prossimi giorni le cosiddette release candidate, che sono delle versioni definitive da testare come ultima spiaggia e in caso di successo rilasciano quella, in caso di piccoli bug correggono e mandano fuori un altro test, però ci siamo il 3 dicembre e c'è il winter drop. E con un tempismo incredibile ma devastante stavo per finire di registrare e cosa mi esce? Mi esce l'annuncio ufficiale sul sito di Minecraft. Eccolo qui, Minecraft The Garden Awakens, con una fan... sì, beh, fan art no, con una concept art ufficiale, quindi non fan, con il creaking che è bellissima. Cioè questa immagine è davvero stupenda. The Garden Awakens, quindi vai nel Pale Garden il 3 dicembre. E ragazzi qui, ora è appena uscito quindi non ho fatto in tempo a leggere, però ci droppano così al volo la notizia. Arriva il Pale Garden e il creaking il 3 dicembre. Quindi il nuovo drop sta per arrivare. E ragazzi, presentato così, lo stanno trattando, non dico ad update, ma neanche come il drop che mi sarei aspettato. Cioè è una via di mezzo. Stanno facendo dell'hype e la cosa sinceramente mi piace. Detto questo, cosa comporta per lo sviluppo di Minecraft? Sinceramente non lo so, non è possibile saperlo attualmente, ma essendo che anticipano i tempi ci si potrebbe aspettare che dopo il winter drop, a meno di piccole versioni correttive, speriamo evitino, perché sennò esisterà la 1.21.5 solamente per quella ragione e sarebbe molto strano, dato che è successo anche con la .3. Quindi a meno di questi incidenti di percorso dovrebbero poi partire con lo sviluppo del drop successivo. Ma lo faranno subito? Perché se tecnicamente vi direi di sì, c'è da considerare che siamo a dicembre e a un certo punto subentreranno le vacanze invernali. Quindi a un certo punto il team di sviluppo non lavora, andrà in vacanza, come tutti, tranne me e gli altri youtuber e streamer che non andiamo bene in vacanza, ma quello non riguarda loro evidentemente. Teoricamente avrebbero qualche settimana in cui lavorano e in cui potrebbero rilasciare qualcosa, ma potrebbero anche attendere il loro ritorno a pieno regime a gennaio per iniziare. Ed effettivamente è proprio a gennaio che ci saremmo aspettati il drop successivo, o per meglio dire l'inizio dello sviluppo del drop successivo. Quindi stiamo in allerta, osserviamo la situazione, non facciamoci troppe illusioni e stiamo a vedere se arriva qualcosa bene, se no aspettiamo gennaio. Detto questo, non è l'unica novità di questa settimana perché si è parlato anche di un nuovo mantello. Quest'anno con l'anniversario dei 15 anni del gioco hanno rilasciato diversi mantelli, ad esempio quelli degli altri due social o quello del quindicesimo anniversario in sé per sé, o quello del torneo di Minecraft Championship. Nel corso dell'anno vi ho spiegato come ottenerli tutti, anche se ormai se non li avete è purtroppo finito il tempo, dato che erano a tempo limitato. Ma adesso uscirà un nuovo mantello, il mantello dell'Eye Blossom, che ha su di sé proprio l'Eye Blossom. E questo è stato scoperto tramite la pagina dei Redeem Code di Minecraft, in cui hanno per sbaglio spolerato e rilasciato il box per riscattare questo mantello. Come si otterrà però questo mantello che ufficialmente non è ancora uscito ed è stato rilasciato per errore? Che poi questo rilasciare le cose per errore sta diventando un piacevole vizio, quindi Minecraft e Moyen fate più errori di questo tipo, mi raccomando. Però come si ottiene il mantello? Cattiva, cattivissima notizia, questo mantello verrà dato in omaggio per chi acquista il mantello del creeper dallo shop di Minecraft. Il mantello del creeper si intende un vero mantello, proprio in real life. E si parla di questo articolo, siamo sullo shop ufficiale di Minecraft, questo è il mantello. Ora, io non voglio giudicare, non voglio dire niente. Però, a parte che questo è il mantello da adulti, della modica cifra di 26,95 dollari, anche abbastanza costosetto, e questo è come viene una volta indossato, io non penso acquisterei mai questo mantello, non saprei cosa farmene, a maggior ragione perché costa parecchio. E il fatto di droppare un mantello in game insieme a un mantello comprato è una bella idea, è un regale, è una cosa in più, ma forse converrete con me nel dire che quasi quasi chi se ne frega del mantello reale voglio solo il mantello in game, che per collezionismo ed elemento storico è sempre bello da avere. Però, accollarsi all'acquisto di 27 euro di mantello di creeper per pagarmi un mantello in gioco è un po' too much. Cioè, a questo punto davvero rivalutiamo le skin di Fortnite. Però, era giusto riportarvi la notizia, non è ancora ufficiale, non si sa bene quando verrà rilasciato, ma è in arrivo. E concludiamo con un'altra news molto interessante, una bella cosa, ma anche una brutta notizia, pure qui. La brutta notizia è che non so dove verrà creata questa cosa di cui parliamo, e la bella notizia è quello che è, ovvero apparentemente è scattata una collaborazione tra Merlin Entertainment e il brand di Minecraft, che ultimamente con il quindicesimo anniversario sta cercando di allargarsi su più fronti. Il cartone che arriverà, la serie animata che arriverà su Netflix, il film in uscita l'anno prossimo, quindi si stanno muovendo su un po' di fronti. Ma di che cosa stiamo parlando in questo caso? Stiamo parlando di questo. Questa azienda si occupa di lavorare nel mondo dei parchi a tema. Se andiamo di sotto, possiamo vedere alcuni dei loro collaboratori più famosi. Ad esempio Legoland, abbiamo Madame Trousseau, abbiamo Peppa Pig, vabbè, chi se ne frega direte voi, abbiamo un altro Legoland, abbiamo il Gardaland Resort, quindi insomma lavorano con i parchi a tema. E attenzione, perché la notizia è che Minecraft arriverà in real life, con un investimento iniziale di 110 milioni di dollari, vogliono creare delle esperienze in real life, permanenti e immersive di Minecraft. Ora, non sappiamo bene dove andranno a parare, ma questi sono i concept. Quindi stiamo parlando di un parco a tema Minecraft. Cioè, è come dire Legoland, è il parco di divertimenti a tema Lego, e qui vogliono fare il parco a tema Minecraft. Quindi tu entri in un parco, dove viene riprodotto tutto in stile Minecraft. Magari andando un po' ad attingere anche dal set del film, quindi da quello che hanno testato con il set del film. Ed è davvero una figata, ragazzi. Io qui ci vorrei andare. Non so dove lo apriranno, sinceramente, non lo so. Però sembra una gran figata. Abbiamo anche un video concept, che vi monto ora sopra questo video, dove si vede una sorta di montagna russa in stile Minecraft, dove poi si finisce nell'overworld, anzi, scusate, nel mondo reale, e poi si passa un portale. Quindi non so bene se ci sarà una montagna russa reale in tema Minecraft o una con dei visori di realtà aumentata, oppure un'esperienza totalmente nel visore. Però, insomma, stanno cucinando qualcosa di interessante. Perché, ripeto, il parco dei divertimenti a tema Minecraft è una bellissima idea. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche in questo caso ci tenevo a riportarvi anche questa notizia, seppur probabilmente non molti di noi potranno usufruirne, perché chissà dove andranno a costruirlo, sicuramente non in Italia. Detto questo, per questo video di aggiornamenti e news è tutto. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con la live e prossimamente con altri video. Un saluto da Eren, vi aspetto nei commenti. Ciao a tutti!